Buongiorno da Cartomanti Europei. Ecco a voi le previsioni settimanali dell'oroscopo di Azzus, presentate in forma grafica. Scoprite l'andamento del vostro segno per quanto riguarda l'amore, il lavoro e il denaro. Per consultare direttamente il nostro astrologo Azzus, chiamateci allo 0773 49 35 35, ogni lunedì dalle 17 alle 19. Salve a tutti da Azzus, c'è una novità che riguarda l'oroscopo, non sarà più un oroscopo settimanale, è quello che andrò a fornirmi, ma sarà l'oroscopo giornaliero, quindi un oroscopo quotidiano per vedere come andranno le cose per i 12 segni dello Zodiaco a partire dal lunedì 29, quindi non più l'oroscopo settimanale ma l'oroscopo del giorno. E poi vi ricordo che potete sempre contattarmi per qualsiasi domanda al numero 0773 49 35 35 ogni lunedì dalle 17 alle 19. azzus, c'è un po' di